Francesco Larosa, grande gara, migliore in campo, sicuramente hai fatto quel gol, hai sbloccato la partita, hai dettato i tempi a centrocampo, hai preso la squadra per mano, una risposta importante di un giocatore importante per questo termine. Ci tenevo come tutta la squadra a fare bene perché non siamo partiti nel migliore dei modi, questo è innegabile perché ci erano parecchie aspettative su di noi e all'inizio, le prime due partite non abbiamo fatto benissimo, adesso invece non abbiamo fatto assolutamente niente perché la strada è ancora lunga però siamo sulla strada giusta e se giochiamo con la determinazione con cui abbiamo giocato oggi possiamo far bene. Su quel pallone dell'1-0 ci hai creduto, ti ci sei buttato a capofitto? Sì l'ho toccata, poi ho alzato la testa, ho visto in porta e niente, sono stato felice perché comunque è stato un gol importante che ha spezzato un po' l'equilibrio perché è vero che siamo partiti bene però non riuscivamo, anche se abbiamo preso il palo abbiamo avuto diverse occasioni per segnare però era importante sbloccare il risultato e poi dopo il secondo tempo si è aperto un po' il Giuliano Uva e siamo riusciti a raddoppiare. Tre punti che rigenerano e danno grosso morale per il futuro? Sì sì, è importante per tutto l'ambiente e la società perché comunque sono stati fatti sacrifici quest'anno e comunque è stata allestita una squadra importante però con i numi non è che si vince, bisogna metterci grinta, cuore in campo perché altrimenti i risultati non ne fai. Poi oggi abbiamo recuperato pure giocatori importanti come Tommaso, ci sono altri giocatori fuori importanti come Mandorino che comunque possono dare una mano a questa squadra e piano piano dobbiamo raggiungere, raggiungeremo sicuramente risultati importanti.